Ola, buongiorno a tutti e a tutte. Oggi è un video un po' speciale perché è medio spagnolo, medio italiano. È un invito per oggi al Zoom della Noce di Shiva, del Maha Shivaratri, dove si reza la figura di Shiva a Dio, se vuoi chiamarlo Dio. Come vuoi, chiamarlo Dio, chiamarlo energia, chiamarlo presenza, non importa. Lo che importa è llevarlo dal cuore, dal corazón, l'intenzione, l'intento, la medicina. Pregare, rezar, tutta la Noce. Maha Shivaratri significa Maha Grande, Shiva, la concienza, i ratri e la noce, la notte. Quindi, come già detto, dalle nove e mezza italiane, le nuove medie in Europa e in Spagna, nos connettamo questa noce in Zoom e facciamo una meditazione tutti assieme. Quindi, qui si offre il nostro tempo, la nostra energia, il nostro, la nostra mente. A Dio, entregamos, devocionalmente, il nostro tempo. La cosa molto bella è che il sabato, 13, da qua due giorni, abbiamo l'incontro con gli italiani, l'incontro con gli spagnoli, che voglio mettere qui le date e gli orari. che è distinto. Noce dei Shivaratri e l'una nuova, fra due giorni. Perfetto per cerimonie, perfetto per andare in profondità e capire cosa vogliamo in questo momento in nostra vita. Il intento, il propósito. Portare una candela, una velita, questa noce, una preghiera, un reso, una foto, una imagen di algo, di alguien che ti inspira confianza per la medicina se no estás bien, se me encuentro en dificultades. Cosa posso io offrire a Shiva? Perché non è soltanto io pido, chiedere, chiedere. È anche entregar, dar algo a cambio. Quindi portare un proposito questa notte e anche il sabato per la luna nuova che spiegherò un po' cosa sta succedendo. Però la luna sta con Venus e Mercurio che è comunicazione, amore, amor. E la luna sta in un signo del Zodiaco di Aquario che è molto volatil, molto aere, viento, movimento. La luna qua ha bisogno veramente di trovare la meditazione, di sedersi sul suolo e nel suolo e inraissarsi, trovare radice. È buono che ci sia anche Venus perché ci dà quel tocco di apertura del corazón, del pecho, verso Dio, verso la creazione. E Mercurio lo lasciamo un po' da parte, del lato e l'intelletto. Non queremos pensare mucho, queremos más surrender, abbandonarsi, entregarsi, lasciarsi andare. È una bellissima cerimonia che possiamo fare. Iniziare questa notte con il Mahashivaratri e portarla fino al sabato quando c'è l'incontro di italiani e spagnoli, uno dopo l'altro, e portiamo il proposito avanti. Ok? Questo è il mio invito. Questa sera l'incontro Zoom è gratis e sabato si sa che c'è una donazione che viene verso di me. Per ora è tutto. Dalla Thailandia. Ci vediamo questa notte, nove e mezza, orario Europa. Ciao.